bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo molto casati perchè adesso si fa un pochino di pvp prima ctm entriamo nella mappa chi non sapesse cosa è una ctm complete the monument ctm ccomplete td monument m sarebbe noi troveremo un monumento in cui ci saranno dei premi ogni livello dovremo mettere quei premi che saranno dei blocchi praticamente potrebbero essere sempre delle lani si delle lani o della clay o del vetro non perdiamoci in cianci e leggiamo e dobbiamo mettere dentro il monumento ok qua c'è scritto cerca e completa il monumento della vittoria ci sono sette lani sette lani c'è sette lani dobbiamo prendere e un blocco di smeraldo bonus usa solo le lani e gli smeraldi trovate nelle ceste dove stanno i livelli ecco ok la mappa torna al normale cioè quindi è una mappa molto difficile questa ok quindi direi di iniziare subitissimissimo ci serve la bluson? la possiamo prendere? no non prenderla che serve? ehi se dove servono dei blocchi aiuto? ci sono degli elmi aiuto qui sono degli elmi helm of the hero maledizione dei legame e che servono? non servono cioè praticamente ti toglie dieci cuori quindi praticamente servono per chi vuole fare la cosa da spavaldo io la faccio ok e il metto che mi toglie mezza vita? per esempio vedi mi toglie mezza vita e che servono? non servono niente? no serve a dimostrare il tuo valore legno ah vedi il castello di? lo vedo è molto figo anche dice non costruire un ponte per andarci ok vabbè vabbè tranquillo non faremo un ponte parkour di nuovo no basta io vado di qua soul sand creeper non voglio fare la prima morte soul sand lì sotto è creeper e stai uscendo attenzione no 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 andiamoci ok direi che possiamo uscire cosa? come incominciamo? non so come cominciare un ragno togliamo di mezzo dobbiamo ammazzarlo a mani guarda qua che ci vuole? no come è che? gitta e clicca bravo bravissimo il drop l'abbiamo perso c'era una... c'era una grazia in creeper qua ci ripetiamo sempre tutto il legno che dici? ci facciamo un piccone no? c'è anche due spagna c'è anche del ferro mi sembra giusto? no il 1.9 non possiamo spammare no no questo è un 1.12 tra l'altro un ragno dov'è? vai a combatterlo io farmo qua ma è sempre notte giusto? si dai si lo so ma no io volevo io volevo un creeper attenzione si io grazie carbone dammi il carbone piccone in ferro c'è in ferro si spada in ferro vuole fare io e io ho un pezzo di ferro e io ho anche l'altro però no dove il legno? oddio che devo ne la lavavamo ma guarda che c'è la sopra non si può levare più come no? no ma lezione legame ma lezione legame schifosa ma abbiamo fuocamico cosa? abbiamo fuocamico cioè ti posso attaccare no non provarci dammi il ferro cioè almeno mettilo là dentro il ferro io 26 pezzi di cobblestone che odio il parkour a me sta già scendendo la fame e io ora muoio però perchè ehi 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 no no quest'altra l'abbiamo presa non è possibile vabbè muoio mo perchè ho preso troppo danno ciao dobbè andare subito vedi basta qui guarda che c'è la via più difficile ote a caso stavo per morire e io che cammino senza curarvele scusami la ho nevono tempo ma perchè c'è una ancora al fuoco? sta mappa quindi mappa 1984 tu sto god ti ti qual è 15 quando fai quando fai URAIO aiuto dammi la Fala io ho pochi cuori comunque e vado un po' di dammi con la pazione bravissimo, poi avevo pochissima vita tieni la spada in ferro ti li comissi a tu viti assieme ho preso solo mezzo cuore un cuore corri ok dobbiamo saliti da sopra, chi sale? io ho i blocchi no scusa i blocchi ti prego però è morto perchè stanno facendo la lava? non lo so, te lo dico che è tutto baggato vabbè però cosi non è giusto, se c'è un po' di cuore a questo punto mi butto la lavata solo eh? mazzano con l'arcovolo la ma c'è lo spawner non lo dobbiamo uccidere lo spawner però come no? come sta il mio piccone? sta qua schede dentro forza un po' bravissio bravissio boom primo spawner tre livelli e ora muoio mi sa seccato per parkour che schede non ci ha provato no dove mi ha spawnato? lo spawner è buggato qua ci sta il pezzo di covane eh dico non raccogliere tutto si invece le mette sono entrato qui tutto nella lava ma porca miseria non raccoglierlo cos'è salvato? niente quasi perchè? posso farlo se vede un ponte d'acqua che arriva là dentro? non lo so ma porca miseria perchè solo noi facciamo questi fail? eh io ho già sceso un cuore e me... una cosciotta e mezzo ma è mai possibile che mi lagga ogni volta? e vabbè e vabbè vabbè metta a fare un po' di goblet perchè tanto così non ci arriverà mai tu sei scemo stai andando senza di me stai provando qua c'è altro ligno bravo bravissimo colpi molto carichi bravo acqua? flame spice world una? mi sa che è fatta solo per farlo in singolo però c'ho un cuore che cazzo dove ci faccio? mi sa che mi sacrifico aspetta tanti cuori non li posso recuperare vado sopra eccole il monumento bastanti vado aspettami no sono morto bravo farei colpi carichi qua io qua non posso fare niente sei sulle scale scemo eh no perchè avevo paura che spawni qua ci sono spawner e una citta eh lo sono visto solo che io qua oh guarda 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 la lana abbiamo trovato la prima lana dobbiamo andarla dobbiamo andarla a mettere quindi così oh ma non l'hai presa si che l'ho presa no non lo ho presa guarda che si è portato oddio mio no no tutte le nostre cose perchè simone è un pirla ma cosa ti la white wool ma che ti vuoi sta sopra tutta la roba ma sopra dove che sei avuto la lava eh ci stanno altri due del tipile eh e come ce le portiamo che cojone che cojone scusa ahahah spartanza però lo devi fare insieme a me eh vieni io nel frattempo cerco di non morire male oh mio dio stavo per morire male io adesso c'è la crafting table? no me la prendo ecco qui ecco qui fa un po di parkour qua sarebbe più facile di quello che abbiamo fatto oggi ok sono arrivato vieni subito anche tu attento aspetto che mi avevi piaciuto stupido ho fatto un minifil ecco qua figata carina e ora è vendita sullo scheletro come facciamo? ammalate di sotto ammalate di sotto ammalate di sotto lava 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 solo per te eh ci sta solo un blocco guarda se ci riesco da solo e c'ho mezzo ah la fetta? così bravissimo mamma mia ma qua c'è delle camere oh letto da un'epa dammi tu mi hai letto vale per due persone dobbiamo dormire assieme è vero dobbiamo citare eh raga mi sa che qua ci citiamo un letto perché non ci viene fornito non è giusto sposto lì eh se no non possiamo comunque andare avanti con la serie eh infatti cioè non ha senso questa è progettata per un giocatore però allora dividiamoci un po' le cose ok ragazzi il video termina qui noi vi ringraziamo per la visione di questo video ma soprattutto è tutto allora ragazzi se volete commentate condividete iscrivetevi iscrivetevi se non avete fatto commentate commentate mettete un bel pollicione in su per supportare questa bellissima serie che abbiamo incominciato insieme e abbiamo già citato e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti